I distributori automatici laser video sono gli unici sul mercato dotati di un dispositivo di serie che permette al vostro cliente di effettuare il download dei film direttamente su una chiave USB per la visione su computer, tv e lettori DVD abilitati già disponibili in tutti i negozi di elettronica. Laser Video ha concordato con alcune case di distribuzione la fornitura dei titoli per il 2009 in esclusiva per i propri clienti. La velocità di trasferimento di un intero film è di più grande.